Silvia Luna parla sempre per creare ansia, mai positivo. Ma Silvia Luna... Vi hanno imputtanato la mente col pensiero positivo. Ora Silvia Luna, facciamo un esempio, ok? Ok? Immaginiamo per un attimo che tu sia grassa 100 kg, ok? E vieni da me e mi dici aiutami. Ora io posso fare due cose. Posso mettermi con te e dirti, cara Silvia, tu non sei grassa, sei magrissima, sei fantastica, sei bellissima, sei un figurino, sei magrissima, sei quasi anorexica. Guardati, tu entri dentro una 38, sei fantastica, sei magra, guardati, sei magrissima. Potrei fare questo. Questo si chiama pensiero positivo e affermazioni positive. Oppure potrei dirti, Silvia, vieni un attimo qua, ti faccio vedere le cause di morte a cui potresti andare incontro se continui a mangiare come una vacca e a sfornarti come un maiale gravido. Ti faccio vedere che cosa succede quando il colesterone e il sangue arriva a determinati livelli, quando si creano i trombi. Ti faccio vedere come si muore di ictus o quali sono le conseguenze di tutto quello che sta accadendo, del tuo grasso in eccesso. Questo è quello a cui puoi andare incontro se continui a stare così. Cambia. Ora, cosa preferisci? Che io neghi l'evidenza e ti dica sei magra, pesi 20 kg? Oppure che ti sbatta in faccia la realtà e ti dia qualche consiglio per cambiare. Perché mi dispiace che questa tu lo chiami mettere ansia. Ma se pesi 100 kg, l'ansia la dovevi avere già da prima. E quell'ansia dovrebbe essere la motivazione ad agire. Invece se ti dico va tutto bene così, come stanno dicendo, va tutto bene, va tutto bene, va tutto, va tutto bene è un cazzo, va tutto bene vuol dire non muovete niente, state tranquilli e sereni, continuate a sperare. Ricordate la parola speranza, la droga peggiore dei popoli, sperate. Sperate che riapra tutto il 3 aprile. Pensiero positivo, sperate, andrà tutto bene, non vi preoccupate, stiamo tutti a posto il 3 aprile e riaprimo tutto. Ci avete creduto al pensiero positivo? No. Se avessero messo ansia, sarebbe stato meglio. Non sarebbe risolto un cazzo, perché i motivi per risolverli sarebbero stati altri. Ma vabbè, lasciamo perdere, sappiamo che dietro c'è ben altro, quindi è rilevante. Però questo è il concetto. Drago d'acciaio ti stai allineando al sistema, ancora. Ah, poi dite che non ascoltate. Vabbè, allora facciamo così. Andrà tutto bene, tutto diventerà come prima, sarà tutto meglio di prima, non vi preoccupate. Se avete perso i soldi, lo Stato ve ne darà il doppio. Se avete perso casa, vi daranno una villa. Se avete perso i genitori, ve ne daranno altri due nuovi, di cloni. Se avete perso, che ne so, se avete perso il compagno o la compagna, ve ne daranno quattro tra cui scegliere, di default, di quattro nazionalità diverse. Questo è il nuovo decreto Conte che verrà fuori tra qualche giorno. Non vi preoccupate, andrà tutto bene, sarà tutto meglio di prima. Pensate positivo. Ma ancora che ci credete? Ah, Dio boh. Ilaria, tu hai detto noi creiamo o no? Infatti avete creato questo. Infatti avete creato questo. L'Italia ha creato il paese più infestato del mondo. Fatevi due domande. Cioè, esatto. Voi create, appunto, chiedetevi quello che avete creato. Ricordatevi, i pensieri di ieri hanno creato la situazione di oggi. I pensieri di oggi creeranno la condizione di domani. E vi posso garantire che il pensiero di oggi non è andrà tutto bene. Perché qua ho migliaia di messaggi di dire io non ce la faccio più, non ce la faccio più. E se vedete le statistiche, perché dobbiamo sempre delle statistiche, ricordatevi che la visione di noi è molto ristretta. Le statistiche stanno dicendo che, uno, sono aumentato il numero di richieste di divorzio già adesso, che non vedono l'ora che finisce sto cazzo di virus per divorziare. Due, è aumentato il numero di suicidi. Tre, è aumentato mostruosamente l'utilizzo di psicofarmaci. In questo mese! Quindi questa è la statistica di fondo. Non va un cazzo tutto bene. Poi se la volevamo raccontare, però se ce la raccontiamo che va tutto bene, non agiamo, non reagiamo. Allora, vogliamo usare questo tempo per far sì di trasformare questa pandemia in un vero dono? Perché questo è un dovere, ho già detto. Il dono sta dentro di voi. Avete il tempo per agire, per fare quello che non potevate fare, per crearvi le vostre attività, per uscire dal sistema, per innamorarvi dei vostri figli, per innamorarvi delle persone che avete a fianco, per stare con... per fare tutto quello che non potevate fare prima. Cioè, magari questa cosa durasse 6-7 mesi. Certo, ne usciranno le aziende, l'Italia, ne uscirà con le gambe rotte. Cioè, è fatto per impoverire. Ma, se capisci il giochino, potresti anche arricchirti. Perché in questi giorni, chi ha fatto degli ottimi giochi, ha fatto un sacco di soldi, per esempio. Oppure, in questi giorni, chi ha usato bene il tempo, si è studiato, sta studiando, sta creando, sta facendo. Eh, quindi. Chiara dice, ma se vi dà fastidio la sua negatività, perché state ancora qui? Ma la cosa bella, e poi l'ho detto prima, vi posso dire, ragazzi, è veramente drammatico non essere ascoltati. È veramente pazzesco. Ma l'ho detto prima, ognuno ascolta ciò che conosce. Per cui, se voi all'interno di quello che dico vedete negatività, è perché ce l'avete dentro. Se vedete positività, è perché ce l'avete dentro. Io parlo, e lo faccio apposta, in maniera bilanciata. In modo tale che, e questa è una tecnica di comunicazione da public speaking, che serve per colpire tutti. Ed è bello vedere come ognuno di voi prenda solo quello a cui risuona. Cioè, vi ho appena detto, questo, questa pandemia è un dono, se la userai come un dono, è una tragedia, se la userai come una tragedia. Come la stai usando? Le statistiche mi stanno dicendo che la maggior parte della gente la sta usando male. Basta. Cioè, non è che lo devo dire io. E non gli direi, andrà tutto bene. Sta andando male. Ma non perché lo dico io. Guardate i numeri. Ora, potete solo sfruttare questa occasione, o essere sfruttati da questa occasione. Il mondo ne uscirà cambiato. Ma, se adesso vi organizzate per adattarvi e sapete come si muoverà il mondo, invece di crearvi una tragedia, potreste magari sfruttarlo al meglio. Eh, si andrà in un mondo sempre di più controllo, dove la privacy sarà sempre peggiore, e dove ci saranno sempre più uno stato di polizia. Ah beh, ma si è sempre detto, mica è una novità, eh. Cioè, guardate 50, 100 fluffati, che cosa parlavamo? Eh, non è che è una novità. Cioè, prima era una cosa lontana, adesso capita. L'Italia, come al solito, è il test e ben venga. Dove andremo a finire, secondo te? Ma, Manuela, vai e fini sempre dentro casa tua, non ti cambia niente. Cambia soltanto che ci saranno più regole, più norme, e che sarai sempre più pecora. Cioè, non è più nemmeno. Dovrai essere felice di esserlo, basta. Certo, non penserete mica che siamo le pecore a guidare il pastore. Che ne pensi della terra piatta? Una gran puttanata. Una gran puttanata. Ehm... Vc, o smart forno, o smart tv, o smart frigorifero, di comunicare al mondo quante scorreggie fate, quanto latte bevete, quanti minuti fate cuocere il pollo nel vostro forno. Ma, permette anche di andare a interferire sull'elettrificazione del nostro corpo, che ricordatevi, siamo una macchina elettrica. Cioè, noi siamo una macchina elettrica, quindi, le frequenze elettromagnetiche interferiscono con noi, ed è palese. E nessuno se ne frega. Quindi, come interferiscono? Eh, nessuno lo sa. I test siamo noi. Ecco un esempio del testo, del primo testo fatto. Come influiscono i campi elettromagnetici su di noi? Male. Male. Male, ci sono tantissimi studi che danno la pericolosità del 5G. Ma, come tutte le altre frequenze elettromagnetiche, ci siamo adattati a tutte le frequenze precedenti, ma noi non siamo fatti per tutta quella valanga di frequenze che adesso stanno nell'aria. Non siamo fatti per questo, eh. Cioè, noi siamo... Adesso ci preoccupiamo nel 5G, ma una persona che vive in un condominio, avete idea di quante frequenze solo del Wi-Fi ha? Ma avete idea del Wi-Fi quanto dannoso sia? Provate a far crescere dei semi vicino al Wi-Fi. Non cresceranno mai. Fate questo esperimento. Mettete una piantina, mettete un vasetto vicino al Wi-Fi e un vasetto da un'altra parte. E piantate lo stesso numero di semi. Vedete che cosa cresce? Provateci. Quelle frequenze lì colpiscono la vostra mente, interferiscono con la vostra acqua, con la vostra elettrificazione, con le vostre cellule. Non fanno niente? Pof! E avrei i miei dubbi. Giada Arcangeloni. Ma Dani, la sciunghite come pietra ti difende dai campi elettromagnetici se portata al collo? Giada, dovresti stare dentro un bidone d'alluminio per essere difesa dai campi elettromagnetici. Cioè, non è una... La pietra... Dovresti stare dentro una botte di sciunghite. Non averla al collo. Capisci? Cioè, non è un concetto per cui tu metti una roba al collo e questa te fa una schermatura tipo lo scudo di Goldrake. Cioè, non funziona così. Le onde sono ovunque, entrano ovunque. La stessa gabbia di Faraday è appunto una gabbia completamente chiusa. Cioè, se c'è anche su uno spiraglio, entrano le onde, servono per entrare ovunque, attraversare... Ma pensate che attraversano i muri. Se voi avete il 4G all'interno di casa che ha i muri di cemento, non vi è il dubbio che se attraversa i muri di cemento attraversa pure lo stato di epidermi ed entra dentro gli organi? Sì! Che ventra dentro il cervello? Sì!